Di certo ci si aspettava una partecipazione più massiccia alla manifestazione organizzata a Casarano ai piedi del municipio per far sentire la voce non di una sola città ma dell'intero bacino del TAC in crisi. E' la mobilitazione indetta dai sindacati di categoria per richiamare l'attenzione di istituzioni e cittadini sulla situazione degli oltre 600 operai del calzaturificio Filanto che sono in cassa integrazione da anni. Ma i soldi, come è tristemente noto, non vengono erogati dall'Inps dagli ultimi mesi del 2012. A questo si aggiunge che nessun percorso di riqualificazione professionale è stato avviato per ricollocare gli operai nel mondo del lavoro. Per questo hanno voluto farsi vedere e sentire a Casarano, simbolo storico del fulcro dell'industria calzaturiera salentina. Noi stiamo senza firma del governo, non sappiamo se stiamo in cassa integrazione ancora e in più noi dal novembre-dicembre del 2012 non ci hanno pagato ancora la cassa integrazione. Ditemi voi che speranza possiamo avere. Sappiamo oggi che la Filanto ha mandato a dire giustamente non venite in fabbrica a fare casino perché loro hanno dei clienti e non siamo qua. Il sindacato ci ha portato qua. Basta. Noi vogliamo i soldi, si sa come sta andando la cosa e siamo fermi così. Non abbiamo futuro. Aspettiamo sempre le loro decisioni, no? Quanti anni ha lavorato lei per la Filanto? Io ho 39 anni. Sto quasi per andare in pensione, però adesso mi trovo in questo stato. Il lavoro si cerca solo per i giovani. Noi che ha 45 anni, 50, ci hanno buttati fuori. Dove andiamo? Fare il lavoro nero, no? Eh già, già, incentivano il lavoro nero, l'evasione fiscale e tutto il resto. Cioè, a sto punto, che dobbiamo fare? 45 anni, no? Sei troppo vecchio. Vai in pensione, sei troppo giovane. Anche noi della Tessiltec siamo 40 lavoratori che l'ultimo stipendio ci è stato pagato il mese di settembre dello scorso anno. Abbiamo ricevuto gennaio 2013, mancano ottobre, novembre, dicembre, febbraio, siamo a luglio. Quindi anche noi sono svariati mesi che non prendiamo un euro di cassa integrazione. Sette mesi senza stipendio, non possiamo lavorare, dobbiamo pagare le tasse, i nostri figli devono mangiare. A lavorare a nero non possiamo. Io vorrei che qualcuno si mettesse nei nostri panni per sapere cosa si prova ad essere, non lo so, uno di noi. I segretari di CGL, Cisle Will, sono stati accolti dal sindaco Gianni Stefano. Insieme a lui anche i primi cittadini di Castrignano del Capo, Patù, Ruffano e Gagliano. Tutti insieme si sono recati poi in prefettura, a Lecce, dove sono stati accolti dal vice prefetto, il dottor Guido Aprea, al quale hanno formalizzato la richiesta di convocazione di un tavolo, al quale siedano le istituzioni e la deputazione salentina. Le idee per creare un futuro per i 600 operai ci sono. I sindacati hanno già proposto, sulla scorta della disponibilità dei comuni, di farsi carico dell'assunzione degli operai in alcune aziende del territorio, ad esempio quelle che si occupano dell'igiene pubblica, ma ad oggi la burocrazia frena ogni processo.